Ti chiedo come è nata la trattativa quando hai saputo che l'Empoli ti cercava e come mai hai scelto nessuno di riuscire? Cosa ti è piaciuto da venire? Mi sono guardato da venire da venire? Faccio da Sosnalica questa mia igra. Avevano già saputo come come giocatore sono io e cosa posso fare. Vi risolverò le interessazioni per me e mi raccontavano la mia adolescente. Erano molto interessati su di me e secondo me la decisione è nata dopo di questo. Ti chiedo a te dove piacere più giocare, in quale posizione ti senti più attuali e dove ti diverti anche di più? In quale posizione ti voli più da igra? Sì. 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 D'altro l'Italiano, tu hai conosciuto? Sai il italiano? Doi li lo conosci? Da, conosciuto. Sì. 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 Mi sono già conosciuto. Sì. Sì. È un'ottima cosa. Ci sono già conosciuto. È un'ottima che ci sono arrivati. Sì. È un'ottima cosa che non si trovi. È una cosa che si chiama in Italia, sì. È un'ottima cosa che si trovi. e tanti giocatori miei dalla nazionale giocano in Italia perché li giocano in Slovenia e ti già conosce come è il calcio italiano e poi devi già stare qua a Vimpoli jesi bio in un'epoca? io sono stato in un'epoca 13 anni in un'epoca come si dice come si dice poi è un'epoca sono stato un'epoca rilassone I che ti ci chiede ma che un'epoca non mi sembra ma che i due i due sono stati l'empol ti chiedi ti chiedi l'epoca No, non ho parlato, ho parlato con l'Italianca Liga, quindi non è stato difficile, ho conosciuto come erano i tabelli, quindi ho conosciuto l'Empoli. Dice che non ha seguito solo l'Empoli, ma ha seguito il calcio italiano, come guardava tutte le partite, guardava anche le nostre, poi conosceva che squadra è. Senti, come sono stati questi primi giorni di Empoli, come ti stai trovando? C'è stato un progetto italiano di Empoli. Va super, super, vedremo i suoi top, raggiungo dei miei tipi, è molto più facile da CTO. Dice che è felice che si sta bene qui, si vede che è un'atmosfera buona, poi dice che... Eppure che sto io qui e Crunic, no, no, non ridete, ho detto così. E poi, noi siamo, quello di cui io, noi siamo già aiutato, perché non conosce la lingua bene, ho aiutato più io, rispetto a Crunic, se aiutava Crunic. Che scherzo. Per proposito di lingua, come ti chiamiamo Osic e Stigliani-Cosic, come si pronuncia? Zainz, non c'è ič, perché è più facile. Zainz. 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 In Italia però a lui piace Pjanic, questo avete capito. E gli somiglia anche che c'è un donatore che potrà prendere come riferimento. Casi abbiamo neanche i raggiuntoli che slicciano un po' in caratteristica, ma questo è una domanda difficile. Però abbiamo visto comunque che ti piace calciare le punizioni, questo sì. Casi adesso vedete che ti si dice di svolgere il slobano verso. Sì, vedete. Dice, vediamo. Vediamo cosa ci si vede. Come stai se ti senti anche eventualmente già pronto qualora domenica ti dovessano fare giocare qualche minuto? Casi si siente fisicamente, se ti senti già da trebao l'equipo? E' stato pronto, sono trenerato già da mesi da dana, io sono stato rappresentato nel turner in Abu Dhabi. Dice che sono preparato, già un mese che alleno, sono stato con il nazionale a un torneo da Abu Dhabi. Dice adesso devo vedere un po' come la mister vuole, che vuole da lui, come funziona la squadra, quelle cose tattiche però secondo me è pronto. Grazie. 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 Grazie.